Quando arrivi al confine dell'universo, cos'è che fa così paura? Una bambina sperduta, con un segreto che ricresce dentro. Dove sei? Sei morta o sei viva? Siamo una piccola cittadina e sappiamo tutti che nessuno può nascondere niente. Qualcuno qui... sa qualcosa. Sai, certe volte nella tua carriera arriva un caso che ti calza così a pennello che non puoi lasciarlo andare. Voglio sapere la cosa brutta che volevi dirmi. Arrenditi! Non c'è via d'uscita! Tutto quello che pensi di essere, non lo sai. Quando arrivi al confine dell'universo, cos'è che fa così paura? Una bambina sperduta, con un segreto che ricresce dentro. Grazie! Grazie! Grazie!